Benvenuti a Scegli la tua avventura con Google. In questo corso vi insegnerò a utilizzare Google Presentazioni, Google Documenti e Google Moduli per creare storie interattive. Io sono Daniele D'Arrigo, sono un artigiano digitale e un Google Certified Educator di secondo livello. Cominciamo subito con la prima sezione del corso dedicata a Google Presentazioni. Vi saluto e vi auguro buon lavoro.